Allora, buongiorno e ben ritrovati. Ringraziamo ancora il nostro lettore, la professoressa Principe e il professor Sirena per l'introduzione alla nostra università e per l'introduzione alle aree disciplinari. Come vi dicevo all'inizio, il mio ruolo in Bocconi è di direttore della direzione studenti, quindi cercherò adesso brevemente di guidarvi su quelle che sono le macro informazioni particolarmente rilevanti per poter, diciamo, anche guidare il vostro processo di avvicinamento a Bocconi da qua ai prossimi mesi. Quindi tendenzialmente le informazioni, le istruzioni che vorrei passarvi si rifanno alle grandi tematiche che sono appunto oggetto di attività da parte della mia direzione. Quindi le modalità e le tempistiche di ammissione ai nostri corsi di laurea e trenare, al corso di laurea magistrale in giurisprudenza, tasse e contributi universitari, quindi qual è l'investimento richiesto alle famiglie, le agevolazioni economiche, la possibilità di risiedere in uno dei nostri alloggi e non ultimo, come vi dicevo, non finisce oggi. Le iniziative di orientamento in modalità prevalentemente virtuale, almeno per questo primo semestre, continuano nel corso dell'anno. Allora, cosa è importante che sappiate? Poi al termine della presentazione vi darò qualche altra informazione per il resto della giornata. Allora, è importantissimo innanzitutto avere chiaro che per entrare in Bocconi esistono tre grandi momenti, tre grandi sessioni di admissions. La prima, che è quella, diciamo, prossima avventura, perché abbiamo una scadenza sottodata, è la early session, che quest'anno va avanti, viene promossa in un periodo più avanzato rispetto all'usuale, di solito avviene nel periodo estivo, ma per ovvie ragioni l'abbiamo leggermente posticipata. La winter session, che di solito avviene tra gennaio e febbraio, e la spring session, che è l'ultima sessione, quella che chiude il nostro intake, che avviene tra aprile e maggio, come, diciamo, partecipazione e esiti di ammissione. Siamo un po' più avanti, quest'anno stiamo già parlando dell'ammissione al 2021-2022, abbiamo una scadenza che è sottodata, che è quella dell'early session nei prossimi giorni. Ecco, è importante che sappiate queste due o tre informazioni. Numero uno, la maggior parte dei posti, parliamo di un ordine di grandezza che è di circa il 90%, viene allocato tra la early e la winter session. Quindi se vi state facendo la domanda, è utile provare a applicare da subito, è utile portarmi a? Assolutamente sì. Noi la grande totalità dei posti, tutti, li abbiamo a disposizione adesso. Più avanti si va, meno posti è più difficile, quindi diventa la possibilità di avere, diciamo, la chance di entrare in uno dei nostri corsi di laurea. Quindi non lasciate nulla per intentato, anche perché, ed è l'altra informazione molto importante che vorrei chiarire da subito, potete partecipare a tutte e tre le sessioni. Quindi qualora non foste ammessi alla prima, oppure qualora foste ammessi, ma ad un corso che non è prioritario per le vostre scelte, potete partecipare alle sessioni successive senza alcun tipo di penalizzazione. Ok? Quindi si può partecipare a tutte le sessioni. Una breve informazione per coloro che già stanno frequentando un corso di laurea trennale in un'altra università in Italia o all'estero, c'è la possibilità di far domanda in uno dei tre round regolari, quindi con tutte le regole, le caratteristiche, i crismi di una sessione regolare, qualora poi si sia ammessi, verificando il proprio piano di studi e la coerenza con il percorso Bucconi, si ha eventualmente la possibilità di avere alcuni corsi e crediti riconosciuti ed eventualmente la possibilità di essere ammessi ad un anno successivo al primo. Però, ripeto, si partecipa per regolarità ed equilibrio ed equità nei confronti di tutti ad uno dei tre round regolari. Chiaro quindi, le tempistiche sono queste, mi raccomando, lo dico anche ai vostri genitori, che ovviamente sono dei player importanti in questa scelta, the sooner the better, permettetemi un inglesismo, prima fate domanda, meglio è più chance avete di poter entrare in Bucconi. Vediamo velocemente le tempistiche, vi dicevo che stiamo già parlando del 2021-2022, nonostante abbiamo appena avviato l'anno accademico 2020-2021. Abbiamo tre appunto round, devo dire che questa è la situazione del 2021-2022, se ci sono degli studenti, dei ragazzi collegati di anni, diciamo, non ancora così vicini alla scelta universitaria, quindi faranno domanda magari tra qualche anno, sappiate che bene o male il time frame, o perlomeno i tre round dovrebbero rimanere questi, con l'unico cambiamento che quest'anno siamo un pochettino appunto in ritardo con la Early Session, che di solito avviene appunto nel mese di giugno. Comunque, la prima Early Session, fondamentale, deadline 24 di settembre. Avete 12 giorni, ok, abbiamo ovviamente inserito l'open day, anche questo open day doveva andare in onda prima dell'estate, ma l'abbiamo ovviamente inserito prima della chiusura per darvi ulteriori spunti ed elementi per poter guidare la vostra scelta. Però la regola ferrea che vige in Bucconi non si può sbagliare, non si può andare oltre questa deadline, quindi mi raccomando non perdete la possibilità di fare domanda già entro il 24 di settembre. Poi, per coloro che faranno il test Bucconi, vedremo a breve una slide in cui vi dico anche quali sono le varie opzioni, il test online, siamo passati ovviamente anche per quanto riguarda il test di ammissione che di solito ospitavamo nel nostro Ateneo o in sedi nelle principali città italiane, sarà in modalità online, l'abbiamo spacchettato su più giorni, quindi non sarà one shot, ma sarà in un range temporale che va dal 10 al 14 di ottobre, questo perché? Perché tendenzialmente vogliamo tutelare soprattutto voi, è un test online, quindi le connessioni da casa possono avere magari anche qualche rischio maggiore di perdita di funzionalità, quindi noi vogliamo essere sicuri che tutti i nostri studenti facciano il test nel miglior modo possibile, con le migliori condizioni possibili. Quindi abbiamo deciso di scaglionarlo in più giorni anche per tutele, per tranquillità vostra e delle vostre famiglie. 10-14 di ottobre, quindi non prendete impegni, ok, se Bucconi diventa una delle vostre scelte prioritarie in quel lasso temporale. Pubblicheremo gli esiti a fine novembre, quindi a fine novembre del 2020 voi saprete se o no siete stati ammessi ad uno dei corsi di vostra scelta per l'anno accademico 21-22. Questa è la prima sessione, 24 di settembre, lo ripeto fino alla noia, ma non voglio che perdiate questa deadline. Ci saranno poi le due sessioni successive, la winter, che avrà quindi un application period di apertura tra metà novembre, quindi prima chiudiamo e consolidiamo la early, e il 25 gennaio del 2021, il test di selezione nelle medesime modalità, quindi andremo online tra l'8 e l'11 febbraio del 2021, esiti a metà marzo 2021. Ripeto, fino a essere noioso, queste due insieme, circa il 90% degli slot a disposizione, quindi mi raccomando, lo dico anche ai vostri genitori, fate domande, il primo possibile, non arrivate troppo tardi, se no può essere troppo tardi per accedere al corso preferito. Rimane però l'ultima sessione, la spring session, marzo-aprile, adesso non abbiamo ancora i giorni precisi, ma l'orizzonte temporale è quello per far domanda, il test andrà in onda in tardo aprile, quindi tra il 26 e il 30 di aprile, esiti entro fine maggio. Ok, questa è la tempistica, ripeto, per coloro che magari sono in anni precedenti, tendenzialmente questa è la tempistica che abbiamo replicato negli ultimi anni, la early session futura sarà probabilmente nel periodo originale, che è quello tra giugno e luglio, quindi la rianticiperemo, quello è l'orizzonte standard. Ovviamente facendo domanda attraverso il nostro portale avete la possibilità di selezionare i nostri corsi di laurea e i nostri corsi di laurea magistrale. Il portale, lo vedremo a breve, è unico, quindi dovrete fare un unico accesso attraverso il nostro portale, indicando in questo portale fino a quattro corsi in italiano, in lingua inglese e eventualmente inserendo nelle quattro opzioni anche il corso di laurea magistrale in giurisprudenza. Ok, quindi il punto di accesso importante è uno e lì indicherete sul nostro portale appunto quali quattro corsi, inclusi quelli in italiano, quelli in inglese, il corso di magistrale in giurisprudenza, vorrete inserire nel vostro paniere di scelte. È importante che vi sia chiaro che è un ordine di preferenza, vi dicevo fino a quattro scelte, quindi potrete avere ad esempio un corso in italiano, di economia, un corso di economia in inglese e giurisprudenza. Noi andremo a seguire questo ordine di preferenze quando andremo a valutare il vostro profilo per uscire con il ranking di ammissione. Quindi è un ordine di preferenza vera e propria. Se prima mi inserite il corso di laurea in giurisprudenza, quando noi faremo la graduatoria, quindi andremo a analizzare la vostra posizione, se c'è posto nel corso di giurisprudenza, lì vi allocheremo. Se no, andremo al secondo, al terzo e al quarto. Quindi non è un elenco semplice di quattro corsi che potrebbe più o meno interessarvi, ma è la vostra lista in ordine di preferenza. Cosa è importante dire? Come dicevano sia il nostro rettore che i DIN, ovviamente la forza di Bocconi è anche nella sua, se non soprattutto nella sua interdisciplinarità. Quindi il messaggio che di solito cerchiamo di dare a voi, alle vostre famiglie, è che in questa fase della vita vostra, come studenti che si approcciano al mondo universitario, crediamo sia particolarmente importante entrare in un Ateneo di spessore, in un corso di laurea, in un percorso di spessore. Tutti i nostri corsi, diciamo, di laurea trenale, il corso di magistrale di giurisprudenza, garantiscono agli studenti quelle basi nelle discipline che vi abbiamo poco fa illustrato, che poi un domani vi consentono o di proseguire il percorso in Bocconi o di entrare in qualsiasi altro grande Ateneo internazionale. Quindi la solidità dei nostri percorsi in questa fase della vita è forse prioritaria rispetto poi alla scelta del singolo specifico corso. Però è vero che abbiamo già dei corsi più specializzanti di altri, abbiamo il corso in scienze politiche, abbiamo il corso in artificial intelligence, abbiamo il corso in computer science, eccetera, eccetera, per cui il corso in giurisprudenza, per cui alcuni corsi sono già leggermente più specializzanti, quindi forse ci vuole una vocazione leggermente maggiore se si va in quella direzione. Vi sono invece tendenzialmente quattro corsi, che sono il corso in economia aziendale in italiano, il corso in economia e finanza in italiano e gli omologhi in inglesi, che sono veramente molto comuni tra di loro, hanno una base comune del primo anno e mezzo veramente solida, veramente costante, per cui in questo caso, in maniera particolare, sono poi ulteriormente possibili eventuali switch in corso di studio tra un programma e l'altro. Quindi, riepilogando, tutti i corsi hanno una forte matrice di interdisciplinarità e hanno pari standing poi nel garantirvi percorsi futuri in Bocconi o altrove nelle N discipline che vorrete affrontare tra qualche anno, per quanto riguarda l'offerta Bocconi, vi sono quattro corsi particolarmente affini, in italiano e in inglese, che hanno quindi una solida base comune, ve ne sono altri più specializzanti, dove consigliamo in maniera particolare di avere un approfondimento maggiore e probabilmente anche una vocazione maggiore verso quelle tempistiche. Abbiamo parlato un po' dei corsi standard, che come sapete per normativa in Italia hanno durata triennale le lauree appunto triennali o quinquennale il corso di laurea in giurisprudenza. Noi abbiamo anche un corso stand alone che diciamo vive un po' una vita sua propria, ma è un percorso unico nel contesto mondiale che è il World Bachelor in Business, è un programma di quattro anni che porta al rilascio del titolo di tre grandi atenei internazionali nei tre più grandi mercati del lavoro futuro, quindi Europa, Asia e Nord America, nonché le tre grandi macro-regioni socio-culturali del nostro pianeta. È l'unico programma in questo momento al mondo che porta al rilascio di tre titoli rilasciati da tre istituzioni di grandissimo spessore nei tre principali mercati. È però un programma di quattro anni, vi dicevo, perché deve rispettare allo stesso tempo le regole del nostro ministero, ma anche le regole dei sistemi asiatici e del sistema americano. Ha anche un percorso di ammissione completamente diverso che a breve vedremo. Oltre alle tempistiche, l'altro grande messaggio che vi deve arrivare oggi sono gli elementi che andiamo a valutare. Ok? Quindi da subito sappiate che il test, sia esso il test Bocconi, che uno dei test internazionali che riconosciamo, l'SAT o l'ACT, trovate poi sui siti internet, sia nostri che dei provider internazionali, tutte le informazioni del caso, hanno un peso, nell'algoritmo finale che determina il vostro punteggio, del 55%. Quindi l'elemento più importante è il test di selezione. Bocconi, SAT o ACT. Quindi il mio consiglio da ora è, se avete tempo, risorse da dedicare al percorso di ammissione in Bocconi, dedicatele a prepararvi al test di selezione in maniera prioritaria. Quindi test Bocconi, SAT o ACT. Adesso vi darò qualche ulteriore informazione. Il rimanente, 43%, tendenzialmente è riservato alla valutazione del vostro curriculum scolastico del terzo e del quarto anno, o penultimo e terzultimo anno nei sistemi internazionali. Quindi non andiamo a validare o a valutare il percorso dell'ultimo anno. Valutiamo sei materie, quattro materie obbligatorie, italiano, matematica, storia e inglese. Quindi qui non avete opzione di scelta, sono materie presenti in tutti i curricula italiani. Quindi due materie a scelta, della terza e della quarta, quindi potete caricare a vostro piacimento. Terza e quarta, la sommatoria dei voti conta il 43% dello score finale. Poi abbiamo un ulteriore 2% che non costituisce elemento obbligatorio che è legato alle certificazioni internazionali. Però consigliamo a coloro che hanno già delle certificazioni internazionali o che hanno tempo e voglia e modo di prepararle da qui ai prossimi mesi, di farlo perché hanno la possibilità di ottenere un 2% ulteriore. Tra l'altro non è tempo buttato via perché comunque in un momento successivo, quindi per l'immatricolazione o per il percorso di studio vero e proprio in Bocconi, dovrete dimostrare la proficiency nelle principali lingue internazionali, sicuramente nell'inglese. Anche qui tutte le informazioni di dettaglio sono sui nostri siti o i nostri uffici sono a disposizione, però questi sono i grandi elementi. Test 55%, curriculum scolastico per chi le ha certificazioni internazionali. Il tutto da poi uno score, noi abbiamo un algoritmo interno che calcola un punteggio, come vi dicevo facciamo una graduatoria e quando arriveremo alla vostra posizione vedremo se e quale dei quattro corsi che avete indicato ha posto per potervi ospitare. Non è obbligatorio sceglierne quattro e se voi avete una scelta fissa, una volontà fissa, giurisprudenza, scienze politiche o solo finanza, potete indicare anche un corso, due, tre o quattro, quindi questa è la vostra scelta. Quattro è, diciamo, il massimo che potete indicare. Ok? Quindi qui deve essere chiaro appunto qual è il sistema di calcolo del punteggio finale. La domanda di ammissione, qui trovate una foto, una widget che è presente sul nostro sito, è il punto sul sito Bocconi dove dovrete entrare e caricare le vostre informazioni. Non dovete far nulla in presenza, non dovete spedirci documenti, non dovete venire agli uffici, tutto può essere fatto da casa online, quindi compilate questa domanda di ammissione, il sistema vi chiederà ovviamente di registrare i dati anagrafici, vi darà poi una user, una login e da lì inizierete a caricare anche lo score dell'SIT, i documenti, la carta di identità, quindi tutto quello che vi sarà richiesto dal sistema. A sistema andrete a indicare le quattro scelte e prima o poi, al termine del percorso, una volta che tutto è completo, invierete la vostra domanda. 24 settembre, vi ricordo, la prima sessione e le sessioni successive nel corso dell'anno. è importante che sia tutto compilato in maniera esaustiva e in maniera corretta. Sono degli upload di documenti, ma se vi chiediamo di fare un upload del test SAT, piuttosto che della vostra carta di identità, lì dentro quello dobbiamo trovare, perché altrimenti l'application è incompleta e per le regole che vi dicevo prima, poi viene annullato il vostro percorso di application. Quindi particolare attenzione anche a quello che caricate, a volte magari fate una scansione di una pagella, di un documento, verificate che il documento sia leggibile. Ok? So che sono informazioni probabilmente ridondanti e sicuramente non accadrà, ma se soprattutto aspettate l'ultimo giorno, se soprattutto nell'ansia di chiudere, eccetera, eccetera, fate ricordare velocemente, non si sa mai. Quindi particolare attenzione da qui al 24 settembre a caricare la domanda. Ecco, non è importante che chiudiate oggi, ok? Non c'è un timing che il primo che arriva meglio alloggia. Noi dal 24 settembre in avanti andremo a validare le candidature. L'importante è che quando le mandate avanti siano complete, ben fatte e ben ovviamente costruite. Andiamo adesso a parlare del nostro test di ammissione per coloro che lo faranno. Allora, è importante la prima cosa che vi suggerisco di andare a vedere sul nostro sito, che è l'unico organo ufficiale insieme all'attività che organizza il nostro servizio orientamento di disclosure del nostro test. Il nostro test è un test multiple choice di una durata di 75 minuti adesso che l'abbiamo trasformato in test online con una cinquantina di domande su diverse aree tematiche, ragionamento numerico, logica, matematica e comprensione dei brani. Sul nostro sito trovate dei samples, quindi degli esempi omnicomprensivi, quindi completi dei nostri test, la spiegazione di che cosa noi ci aspettiamo voi conosciate per le singole aree tematiche e quindi la possibilità anche di esercitarvi. È importante che sappiate anche che quando farete il nostro test online noi andremo a valutare tutte le risposte che darete e coloro che risponderanno a qualche domanda in maniera errata avranno anche una penalizzazione, quindi suggeriamo anche di non fare il guessing come si dice all'inglese, quindi cercare di indovinare il quesito se non lo si sa. Però per far questo è molto importante ripeto che voi vediate il test sia sul nostro sito con le informazioni a disposizione ma soprattutto visto che oggi partecipate all'evento che non perdiate l'occasione come quella di oggi di simulare il nostro test all'interno di uno dei contenitori ufficiali. Quindi questa è un'altra delle cose più importanti della giornata, lo dico anche ai genitori, partecipare alla simulazione del test Bocconi che ovviamente è una proxy, ma è una proxy molto vicina a quella che sarà poi la sessione vera durante una delle giornate di test. Qualche informazioni di dettaglio, scusate, per coloro che appunto faranno il test ve lo dicevo non esistono dei manuali ufficiali salvo le informazioni ufficiali che noi mettiamo a disposizione, questo lo dico anche per tutelarvi perché ci sono N provider in giro, sia in giro fisicamente nel nostro Ateneo che virtualmente in altri ambiti che si propongono come provider di informazioni ufficiali Bocconi. Questa è un'informazione di servizio ovviamente gli studenti di DSA o con learning disabilities possono, devono approcciare il nostro ufficio di ammissioni e chiedere quello che è il loro diritto quindi avere extra time oppure degli strumenti ulteriori di supporto. L'ultima informazione di servizio è che il test per coloro che vengono a un percorso italiano deve essere fatto in lingua italiana per cui questo non sarà diciamo come opzione di scelta che troverete sulla vostra application. Vado velocemente sugli altri punti perché? Perché tutte queste cose devo essere sincero seguiranno quindi dopo l'eventuale ammissione il nostro ufficio orientamento l'ufficio ammissioni l'ufficio tasse e contributi vi contatteranno per gli step successivi quindi in questo momento per me la priorità e per tutti noi è che vediate le presentazioni dei direttori capiate bene qual è l'iter di ammissione e che dedichiate il vostro tempo e risorse nel prepararvi per l'ammissione però sappiate che dopo l'ammissione cosa succede? Avrete un 15-20 giorni di tempo qualora sarete ammessi per decidere se immatricolarvi o meno quindi se confermare o meno il vostro posto se lo farete vi chiederemo di compilare una domanda di immatricolazione e di pagare un acconto un acconto sulla prima rata che è nell'intorno dei 1560 euro in questo momento per diciamo tra virgolette bloccare il vostro slot nel corso di laura prescelto e per il quale siete stati ammessi anche qui seguiremo con tutte le technicalities le tempistiche e via dicendo quindi non è secondo me particolarmente importante o comunque non è l'elemento più importante della giornata odierna tutto quello che viene dopo l'ammissione adesso dobbiamo portarci a casa l'ammissione e avere le idee chiare qualche parola velocemente sul World Bachelor in Business perché ci sono tanti di voi collegati che a breve avranno anche l'occasione di vedere la presentazione della professoressa compagni è un programma stand alone in tutto e per tutto quindi in questo caso abbiamo una joint commission con i colleghi americani della University of Southern California Marshall School of Business e con i colleghi cinesi di Hong Kong University of Science and Technology decidiamo insieme ok quali studenti ammettere qui il target è di circa una cinquantina di studenti overall l'abbiamo detto forse velocemente all'inizio per i corsi di laurea triennale e per i corsi di laurea di giustipudenza insieme abbiamo un intake di circa 2700 studenti quindi avete anche un'idea numerica comprensiva in questo caso il programma è ovviamente molto molto piccolo e come vi dicevo è una joint commission e ha quindi anche delle regole completamente diverse dal punto di vista sia di dove si fa la domanda qui adesso trovate una parola che magari ad alcuni di voi dice poco però ripeto nella sessione successiva con i miei colleghi dell'orientamento nelle settimane successive ma soprattutto andando a registrarsi online questa parola diventerà di facile utilizzo quindi la common app è l'application utilizzata da tutte le università americane appunto per ricevere le domande degli studenti interessati a un percorso in un ateneo statunitense ovviamente qui il percorso di studio World Bachelor of Business iniziando a Los Angeles ha come diciamo università madre nella fase iniziale la università della California meridionale quindi si fa domanda attraverso la piattaforma americana Common App al quale noi ovviamente siamo connessi quindi anche noi riusciamo a vedere i vostri dati e via dicendo e in questo caso importantissimo la selezione è con un'unica tempistica quindi non abbiamo i diversi round quindi qui in maniera particolare non si può andare oltre al primo dicembre del 2020 quindi primo dicembre 2020 per intake 2021-22 anche qui negli anni tendenzialmente replicheremo questa tempistica la selezione è basata sul curriculum e in maniera veramente molto rilevante è importante qui anche sul sito trovate tutte le indicazioni che gli elementi che fornirete la lettera motivazionale la lettera di ricomandazione di docenti o conoscenze che avete avuto in ambito professionale piuttosto che il vostro curriculum piuttosto che il video che dovrete caricare tutto questo porterà una valutazione molto olistica del vostro profilo quindi per questo programma in maniera particolare è veramente importante che tutti i documenti siano ben fatti e ben ponderati perché come vedete il test in questo caso da quest'anno perché è una policy across tutti gli Stati Uniti quindi sia SOSIT o ACT quindi in questo caso non può essere il test Bocconi è opzionale quindi non è più elemento obbligatorio quindi il core della missione sarà data dalla robustezza del vostro curriculum comprensivo invito però tutti voi a partecipare a una delle sessioni che a breve avremo con la professoressa Compagni che è la direttrice del World Bachelor in Business oltre che ovviamente con tutti gli altri direttori per gli altri corsi di laurea velocemente anche qui su tasse e contributi universitari sapete che l'investimento maggiore per quanto riguarda la partecipazione di un corso di laurea eternale alla laurea magistrale in Bocconi è di circa 13 mila euro che prevede diciamo il pagamento in diverse tempistiche vi dicevo c'è un acconto per quanto riguarda l'immatricolazione c'è poi un conguaglio verso i primi di dicembre dell'anno successivo e poi la seconda e terza rata nei mesi di gennaio e di aprile quindi 4-5 rate complessive nell'arco nell'arco dell'anno noi sottolineiamo sempre che Bocconi come si diceva all'inizio con il nostro lettore è un'università di standing internazionale quindi non valutate l'investimento Bocconi diciamo paragonandolo all'investimento presso un'altra università italiana ma presso un'altra università di standing internazionale presso un'altra università che può dare il medesimo ritorno dell'investimento a livello di placement di possibili percorsi futuri che dà Bocconi quindi questo lo dico in maniera particolare alle famiglie e ai genitori per far questo è anche importante che sappiate che Bocconi mette proprio a disposizione della famiglia ogni anno tantissime ok strumenti tantissimi strumenti di supporto quindi tantissime agevolazioni economiche che vanno a premiare il merito degli studenti il bisogno delle famiglie che sono normate sia da regole nazionali come il diritto allo studio ma che soprattutto sono messe in campo proprio da Bocconi con le proprie forze parliamo per darvi qualche ordine di grandezza ormai di numeri superiori ai 30 milioni di euro ogni anno che quest'anno avranno aggiunte ulteriori quindi in modo particolare noi abbiamo un ufficio dedicato al supporto delle famiglie quindi sia nella gestione delle tasse contributi ma anche nella organizzazione delle agevolazioni economiche quindi è importante che in questi mesi che precedono la vostra scelta abbiate tutte le informazioni chiave per far sì che appunto anche l'elemento economico possa essere ben affrontato e ben chiarito prima di essere ammessi ad uno dei nostri dei nostri dei nostri corsi ovviamente abbiamo oggi colleghi sia dell'ufficio ammissioni che dell'ufficio agevolazioni collegati in chat abbiamo caricato dei video di presentazione dei servizi ma vi dirò breve prima di concludere il mio intervento quindi ammissioni le tempistiche agevolazioni economiche abbiamo poi delle casistiche particolari che qui ovviamente citiamo anche perché sono normate da regole nazionali come il diritto allo studio di cui vi dicevo in anticipo sono esonere al 100% e l'aggiunta anche di borse di benefici ulteriori previsti dalla normativa nazionale abbiamo poi la scelta possibile che è un programma di inclusione a quale crediamo tantissimo perché sostanzialmente va a premiare sempre con un esonere al 100% coloro che vengono da contesti anche di grave disagio economico e sociale quindi l'importante ripeto è che queste informazioni e queste tipologie di agevolazioni vi siano chiare perché ci sono tante possibilità di poter far domande di poter avere appunto un supporto da parte della nostra università ci sono gli esoneri parziali quindi la riduzione fino al 65% quindi paghereste solo il 35% sono circa 100 ogni anno per coloro che entrano nel triennio o nella laurea magistrale in giurisprudenza ci sono poi le fasce di contribuzione agevolata quindi 13.000 è la fascia massima ma abbiamo altre tre fasce di importo inferiore quindi dai 5.500 ai 7.700 ai 9.900 euro circa in questo caso quando si chiede un'agevolazione di merito è importante che noi abbiamo gli elementi per poter valutare il merito curriculum e tutto quello che diciamo dà solidità alla vostra performance precedente quando si parla di agevolazioni di reddito quindi fasce di contribuzione agevolata diritto allo studio e zone riparziali abbiamo bisogno dei documenti delle informazioni per poter fare delle istruttorie e valutare l'effettiva necessità di supportare questa o quella famiglia anche qui seguiremo con tutte le informazioni del caso però è importante che già abbiate un'infarinatura di questi elementi inoltre da diversi anni Bocconi ha concluso proprio degli accordi con degli istituti di credito trovate anche qui le informazioni sul sito che erogano dei prestiti agevolati con la possibilità di essere rimborsati post laurea quindi senza darvi neanche l'ansia di dover correre a procedere in corso d'opera con i relativi rimborsi abbiamo poi tutta un'altra serie di agevolazioni che ripeto possono essere richieste ed erogate durante il percorso di studi quindi non in fase di ammissione che sono i premi all'eccellenza quindi premi per coloro che avranno una performance particolarmente elevata durante gli studi in Bocconi che quindi avranno delle riduzioni degli esoneri negli anni successivi abbiamo poi la possibilità si diceva molto prima della rilevanza che ha l'internazionalizzazione per Bocconi di sostenere gli studenti che parteciperanno a percorsi di mobilità internazionale di studio o di lavoro la possibilità di supportare anche gli studenti atleti con delle riduzioni dedicate con dei servizi anche di tutoraggio dedicati a loro per poter avere un inserimento più smooth all'interno del nostro Ateneo e tutta una serie poi di possibilità di riduzioni per fratelli e per tipologie particolari di studenti quindi non dimenticatevi né oggi né nei prossimi giorni di accedere alle nostre informazioni sulle agevolazioni economiche housing lo dico anche qui soprattutto per voi che potete essere le nostre nuove matricole soprattutto per i genitori Bocconi da diversi anni ha investito tantissimo nelle residenze universitarie in questo momento abbiamo otto residenze universitarie quasi tutti a pochi minuti se non addirittura on campus quindi veramente vicine veramente funzionali alla vita dello studente una volta arrivato in Bocconi che ci permettono con diverse tipologie di alloggio ma tutte riservando agli studenti una stanza singola di accomodare circa 2060 studenti ogni anno presso le nostre residenze anche qui vi guideremo una volta che sarete ammessi nella possibilità di fare domanda a tariffa agevolata o a tariffa completa però sappiate fin da subito siccome la stragrande maggioranza dei nostri studenti è di fuori Milano che ci saranno tantissime occasioni anche per poter avere il posto in una delle nostre residenze universitarie vi dicevo studenti con DSA e disabilità è importante che fin da subito ci contattiate perché fin da subito fin dal percorso di ammissione avete il diritto e la possibilità nella quale noi crediamo molto di avere degli strumenti a vostro supporto quindi mi raccomando per coloro che si stanno approcciando al test di ottobre e alla chiusura della selezione il 24 settembre fateci avere queste informazioni se ancora non lo avete fatto allora spero di avervi dato un'inquadratura una prima infarinatura utile più che altro a capire quali sono gli elementi chiave quindi c'è un iter di ammissione che ha certe caratteristiche certe tempistiche abbiamo un certo tipo di servizi di possibilità di supportare dal punto di vista economico l'ingresso in Bocconi rispetto delle tempistiche quindi non si può sgarrare grazie e sfruttate al meglio la giornata e grazie anche alle vostre famiglie e ai vostri genitori buon proseguimento a tutti grazie a tutti grazie a tutti